Come posare un cancello? Livello di difficoltà, due martelli. Posto all'entrata, il cancello è un elemento fondamentale delle abitazioni. Se da un lato riusciremo facilmente nel lavoro di muratura, dall'altro dovremo prestare parecchia attenzione alla posa delle ante. Abbiamo bisogno di cancello, cardini inferiori e superiori, battente d'arresto, tavolette e tavole di legno. Dobbiamo avere a portata di mano metro, matita, livella a bolla, filo a piombo, morsetto, serie di cunei, martello, trapano a percussione, punte da trapano per cemento, chiave combinata e una serie di chiavi a cricchetto. Se i cardini sono da tassellare, inseriamoli provvisoriamente nella loro sede. Fungono da fulcro sulla parte inferiore del battente e supportano il grosso del carico. Posizioniamo uno spessore da 25 mm tra l'ante e il pilastro. Mettiamo poi due cunei tra la soglia e ciascun battente, facendo attenzione che questi restino bene in asse con i pilastri. Anche tra i battenti inseriamo uno spessore di 8 mm in alto e di 5 mm in basso. Quindi rendiamo solidali le due ante mettendo tavolette con i morsetti. La differenza di spessore tra i cunei serve a compensare un leggero cedimento ulteriore del cancello, dovuto al peso delle ante. Regoliamo bene l'altezza delle ante intervenendo sui cunei smussati. Se necessario, verifichiamo e correggiamo la verticalità e la messa a piombo, incastrando altre cunei tra il cancello e i pilastri. Blocchiamo il cancello puntellandolo da un lato e dall'altro con una tavola di legno inclinata e fissata al suolo. Verifichiamo ancora una volta che gli elementi siano a piombo. Nel caso di cardini da tassellare, segniamo semplicemente i punti di foratura. Per i modelli di cancello da murare, invece, tracciamo sul suolo i contorni delle parti da murare. Sulla parte superiore dei pilastri, segniamo i punti di fissaggio delle viti dei cardini. Prestiamo particolare attenzione a quest'operazione. Dobbiamo essere perfettamente in asse con il cancello. Ora possiamo togliere i puntelli per rimuovere il cancello e liberare i pilastri e la soglia. Per ogni punto di fissaggio, foriamo con una punta da 8 mm di diametro. Poi allarghiamo il foro con una punta con il diametro corrispondente a quello del tassello o della calza, se usiamo ancoraggi chimici. Ancoriamo i supporti dei cardini inferiori e superiori. Per i normali tasselli è sufficiente avvitare fino in fondo. Per gli ancoraggi chimici bisogna rispettare il tempo di presa. È importante lubrificare bene l'asse del cardine prima del montaggio. Per questo tipo di cancello, prima di posare ogni anta, dobbiamo regolare il cardine superiore in modo che il suo asse sia distante 45 mm dal pilastro. Posiamo poi l'anta sul cardine inferiore, quindi avvitiamo l'asse del cardine. Verifichiamo che l'anta sia piombo prima di bloccare il controdado lato pilastro. Possiamo montare per ultimo il battente d'arresto. Esistono modelli da avvitare o da murare. Nel secondo caso, individuiamo la posizione e poi scaviamo. Quindi immobilizziamolo con malta pronta. Fissato in modo solido, il nostro cancello è ora pronto per essere utilizzato. Per maggiore comodità, possiamo anche decidere di motorizzarlo. Per maggiore comodità, possiamo anche decidere di motorizzarlo.